Ciao ragazze, allora ho fatto un altro acquisto da Regni Paynewood, io spero di pronunciarlo bene, che sarebbe Altamarea e questo è il nome del suo canale, della sua pagina Facebook e c'è scritto grazie per l'acquisto e qua c'è questo bellissimo decotape con scritto Merci, molto carino, sembra di tessuto e poi ho preso questa gindina qui, mi piaceva veramente un sacco, poi con il gattino nero era d'obbligo acquistarla e dentro è semplice così. E niente, questo è un altro acquisto e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!